Ben ritrovati a tutti, ben ritrovati a tutti da Selva di Val Gardena. Che settimana sarà sui mercati finanziari dopo l'aumento di volatilità, quasi inaspettato, quasi non siamo più abituati agli aumenti di volatilità che c'è stato alla settimana scorsa, a partire dalla metà della settimana scorsa, da giovedì, e poi sul finire questa volatilità accentuata dovuta da prima alle riunioni della Federal Reserve di mercoledì, poi alle dichiarazioni di un semplice membro della Federal Reserve, Bullard, il governatore della Federal Reserve, della banca centrale americana, la sede di Minneapolis, che ha dichiarato che forse sarebbe logico un rialzo dei tassi di interesse già dal 2022. Le proiezioni della Federal Reserve, lasciate solo qualche giorno prima, mercoledì, avevano individuato in due rialzi dei tassi di interesse per la giornata per il 2023, quindi solo qualche giorno prima. Ovviamente questo un po' spaventa, diciamo così, crea delle condizioni finanziarie peggiorative, il mercato comincia a scontare l'idea che la politica ultramonetaria espansiva possa essere giunta al capolinea, con quegli acquisti massicci di tiro di Stato, che rendono le azioni di forza quasi, per sottrazione, rendono le azioni più interessanti rispetto alle obbligazioni. Però la giornata e la settimana e le prossime giornate verranno segnate da quello che è il calendario macroeconomico, da quello che è il calendario macroeconomico nei diversi paesi e nelle diverse giornate che scandiranno appunto la settimana finanziaria. Avremo la Banco of England che si riunisce, un'altra banca centrale importante, a un certo punto il mercato ha iniziato a scontare che sia proprio la Banco of England una delle prime banche, assieme a Banco of Canada, a partire con le manovre di politica monetaria un po' più restrittive, quindi a normalizzare la politica monetaria, anche se il copione, la storia dice che è sempre la Federal Reserve quella a muoversi per prima. e poi abbiamo i PMI, indicatori che da sempre sono affidabili, da sempre ci dicono in maniera anticipata come andrà il calendario macroeconomico, il calendario macroeconomico, come andrà il ciclo macroeconomico, come andrà il ritmo dell'economia, ce lo dicono sempre in anticipo. Cosa ci si attende? Ci si attende dei indicatori, dei PMI leggermente inferiori ai dati precedenti, seppur sempre buoni, robusti, abbondantemente sopra i 50 a segnare un ciclo economico che ancora si espande, nonostante si parla di queste voci di normalizzazione della politica monetaria. E poi avremo l'IFO, l'indicatore della fiducia degli imprenditori tedeschi, da sempre gli occhi degli operatori sono sull'economia più importante, l'economia più importante del vecchio continente. Ma trasferiamoci sul calendario macroeconomico proprio per analizzare giornata per giornata, dato per dato, quello che accadrà. Quindi eccola qui, ecco qui il calendario macroeconomico, come vedete si partirà già da lunedì con i dati relativi alle aste francesi, tutte sotto la curva dei rendimenti dello zero. Quindi ricordiamo che la curva a 8 anni, a 9 anni, a partire dal 9 anni, francese è tutta sotto lo zero, la curva tedesca è tutta sotto lo zero a partire dal 10 anni e la curva italiana è tutta sotto lo zero a partire dal 4 anni, la curva spagnola è tutta sotto lo zero a partire dal 7 anni. Riemergeranno queste curve dei rendimenti, riemergeranno dallo zero. È una delle scommesse che si possono fare sui mercati finanziari, però bisogna stare molto attenti perché da ultimo stiamo assistendo a un fenomeno di flattening della curva dei rendimenti. Che cosa vuol dire la curva dei rendimenti americana? Che cosa vuol dire? Che le tasse, che i tassi di interesse della parte lunga della curva dei rendimenti si stanno alzando poco o si stanno addirittura riducendo. Invece la parte breve, le scadenze più brevi della curva dei rendimenti si stanno alzando. Quindi che c'è un cosiddetto flattening di curva, c'è una curva che tende a non essere ripida. È un tipico clima da riscoff sui mercati finanziari. Forse un clima che è un po' diverso rispetto a quello che siamo abituati a avere questa aggressività, questa forza di recupero dopo quello che è accaduto con il coronavirus. Ma torniamo sul calendario macroeconomico con le parole della presidente Lagarde, dette tra l'altro poco fa. E poi ancora la curva dei tassi, le aste americane. Vedete che a differenza anche il 3 mesi e 6 mesi le scadenze brevissime americane sono ormai sopra lo zero. Tutta la curva dei tassi di interesse americana è sopra lo zero. La disoccupazione in Russia 5,2%, tutto sommato bene. Un paese che ci restituisce sempre un quadro di come stanno andando le cose, per esempio sul petrolio. Il GDP russo, dato relativo al mese di maggio, più 10,7%. E poi tornano i prezzi. Tornano i prezzi che sono stati i principali protagonisti. Non lo erano da moltissimo tempo i prezzi. Non si guardava più i prezzi. C'era uno scenario deflazionistico dovuto alla globalizzazione dell'economia, a popolazioni nei paesi più sviluppati, sempre più anziane, che non spendono. E quindi a prezzi che scendevano. E poi anche un calo demografico della popolazione. A tutto questo c'è stata la strozzatura di alcuni mercati dell'offerta, della produzione dovuta al coronavirus. Ha riportato uno squilibrio tra offerta e domanda. Con la crescita di alcuni prezzi. Avremo i prezzi nella Corea del Sud. Eccoli qui. 5,6%. Sempre un paese sul quale mostrare molta, sempre molta attenzione relativa all'andamento della tecnologia. E poi ancora la produzione industriale in Italia. Martedì, subito martedì, attesa, guardate, a più 65%. Un dato che risente ancora delle riaporture. Per fortuna, il dato precedente era più 38,1%. Le vendite all'industria, anche in questo caso, meno robuste del dato precedente, più 0,8%, però più sempre molto alte, più 1,6%. A seguire ancora Philip Lane, uno degli macroeconomisti più importanti per quanto riguarda la Banca Centrale Europea. Le parole di Bullard e lo sconcasso, diciamo sì, il movimento forte che è stato portato sui mercati finanziari, con le parole di Bullard, proprio della giornata di venerdì. Ci ripropongono l'attenzione a quelli che sono i banchieri centrali. Diventano sempre più uno dei driver più importanti sui mercati finanziari. Ma andiamo avanti con, ecco qui, poi con le aste americane, ancora sempre la giornata di martedì, con un tassi di interesse sul due anni, allo 0,15%. Sarà molto importante quest'asta martedì allo 0,15%. Il tasso di interesse precedente, vedremo se sicuramente sarà in ascesa, vedremo però di quanto sarà in ascesa. E poi mercoledì finalmente arrivano uno dei dati che vi avevo preannunciato in apertura, e cioè i dati relativi all'indice dei direttori degli acquisti. Si parte subito con i PMI australiani e poi ancora a seguire quelli francesi. Guardate, le attese sono per 58,7, 59,4, dato precedente a 56, quindi in questo caso più robusti del dato precedente, quasi allineati 59,4, 59 il dato atteso, dato precedente 59,4, sulla manifattura 59 il dato precedente. Quindi sui servizi dovrebbe essere un miglioramento sulla manifattura in Francia leggermente meglio. E poi ancora il complessivo 59,57. Andiamo ai PMI della Germania, attesi a 63 ed erano però la manifattura a 64,4. Io guardo molto di più la manifattura, cioè la manifattura, poi sarebbe l'industria, perché se va bene l'industria poi si trascina anche i servizi, diverso invece che dei servizi che non riescono a trascinare da soli la manifattura. Ma torniamo ai dati, ai dati macroeconomici, ancora come vedete nella giornata di mercoledì, poi ancora il dato complessivo del market europeo a 55,2 atteso, atteso a 57,8 da 55,2 che era il dato precedente per quanto riguarda i servizi e per quanto riguarda invece la manifattura, anche in questo caso complessivamente l'Europa dovrebbe fare meglio rispetto al dato precedente, leggermente peggio del dato precedente, 63,1 rispetto a 62,1 che è la previsione, quindi così come in Germania. Anche i dati, eccoli qua i dati relativi al UK con un dato atteso a 64,5, la manifattura da 65,6 il dato precedente, quindi anche in questo caso il dato precedente dovrebbe essere leggermente più alto dell'attesa, del dato relativo a giugno e poi ancora del dato di maggio e anche i servizi, anche in questo caso invece si vedono in miglioramento rispetto a 62,9 e poi ci attendiamo i direttori di acquisti ovviamente in America, anche in questo caso guardate, quello dei servizi è leggermente migliore del precedente, invece il dato dell'industria è leggermente inferiore, inferiore 61 rispetto a 62,1, poi ci sarà la vendita di nuove case negli Stati Uniti e poi come al solito, come tutti i mercoledì, i dati relativi al petrolio. Completeranno giovedì, si parte con la fiducia dei consumatori in Francia, è la fiducia dei consumatori invece, è la fiducia dei consumatori delle aziende, attese a 110 la previsione da 107, quindi il leggero miglioramento della fiducia delle aziende in Francia e la fiducia dei consumatori del clima economico, quindi migliorato da 111 rispetto a 108. E poi ancora, come vi dicevo, l'altro dato atteso per giovedì, giovedì sarà una giornata importante perché sia l'indice di fiducia degli imprenditori tedeschi sia la Bank of England. Andiamo a vedere, sia la Bank of England, quindi andiamo a vedere questo dato, la fiducia degli imprenditori tedeschi dovrebbe essere sia con riferimento, con lo spaccato, sia nelle aspettative, sia nella situazione corrente, 97.3 rispetto a 95.7 e a 104 rispetto a 102, quindi dei dati che dovrebbero uscire migliori del dato precedente. E poi c'è la riunione della Bank of England, sempre giovedì, sempre con riferimento all'America, nella giornata di giovedì, quindi una giornata estremamente importante, gli ordini dei beni durevoli e i sussidi di disoccupazione, questi sono un dato ritunario, guardate dovrebbero uscire a 360.000 rispetto a 412.000 che è il dato precedente, quindi in leggero miglioramento il dato del mercato del lavoro, anche se il presidente della Fed, per giustificare il fatto che non vuole partire da subito con una politica monetaria, una normalizzazione della politica monetaria, aveva giustificato il fatto che secondo lui a fine agosto ci dovrebbe essere gente che perde il sussidio negli Stati Uniti e che si dovrebbe riversare sul mercato del lavoro con problemi ovviamente sul tasso di disoccupazione. Andiamo avanti perché poi abbiamo l'ultima giornata che è quella di venerdì con i dati sull'inflazione a Tokyo, meno 0,1%, l'inflazione è un paese che ha sofferto tantissimo il mercato, il problema dei prezzi, il Giappone, vedete anche in questo caso dei prezzi che dovrebbero essere leggermente inferiori rispetto a quello che è il dato precedente, quindi dovrebbero essere in miglioramento, quindi in crescita e poi in Italia per guardare fatti più di casa nostra sia la fiducia dei consumatori che la fiducia delle imprese attese in miglioramento. La settimana finirà con i redditi e le spese personali negli Stati Uniti, attese in questo caso in leggermente migliori i redditi personali e leggermente peggiori invece le spese personali, quindi le spese che dovrebbero pensionare, i redditi dovrebbero andare a migliorare. Quindi come dicevamo, per riepilogare, è una settimana che bisogna guardare con grande attenzione a quello che succederà giovedì, tra l'altro l'IFO e il Banco of England, ordini dei beni durabili negli Stati Uniti, ricordiamo anche i PMI, l'indice di direttore di acquisto della giornata di mercoledì, e quindi poi ci saranno una serie di dati rutinari, ma anche andare a guardare come si stavolverà il mercato del lavoro e quindi su siti di disoccupazione giovedì, che pur essendo un dato rutinario, può destare grande interesse. Da Selva di Val Gardena è tutto, io vi do appuntamento al prossimo contributo video.